Buongiorno, mi chiamo Tonelli Tamare, sono dislessica, faccio la delegata e volontaria della CGL. Dal 27 settembre mi trovate presso la CGL di Modena tutti i giovedì mattina dalle 9 alle 11, presso il nuovo Sportello Amico DSA. Sportello pensato con l'obiettivo di dare ascolto e risposta alle problematiche che si incontrano nel mondo del lavoro e non solo, quando si è dislessici o quando si è genitore di un bambino o un ragazzino dislessico. Io vi aspetto perché i vostri diritti sono i nostri valori.